Cresce il numero di giocatori, complici la liberalizzazione delle scommesse sportive e i casinò virtuali. Ed è già allarme sociale, c'è chi mette sotto accusa bar e ricevitorie e chi ne sostiene il ruolo di controllo. Il gioco tocca più o meno l'80% della popolazione con una patologia in crescita esponenziale su tutto il territorio bergamasco. Proprio per trovare una strategia terapeutica che consentisse ai giocatori patologici, alle loro famiglie, di raggiungere e mantenere l'astinenza da gioco d'azzardo, attualmente attivo un servizio specifico presso l'ASL di Bergamo, Dipartimento delle Dipendenze. L'opportunità di giocare con soldi, quindi diciamo il grattavinci, il lotto, il bingo, tutto altro quello che c'è sul mercato, è sempre più fruibile, sempre più alla portata di tutti. Chi gioca, gioca non per giocare, gioca per altri motivi, nel senso che è un modo per avere dell'adrenalina, per una sfida. Il fatto di essere un momento di crisi economica, ma forse potrebbe essere, forse credo, un momento per avvicinare più persone a questa tipologia di gioco, ma non certo per creare patologia. A sue fazioni al pari di alcol e fumo? Allora, più che a sue fazioni parliamo di dipendenza o di abuso, nel senso che noi parliamo di una situazione in cui la persona è sempre più presa dal gioco, come ripeto non è un modo per divertirsi, diventa un'ossessione, in cui si spendono tanti soldi, in cui la propria vita sociale, affettiva e lavorativa viene messa in crisi e non porta a null'altro che a delle grosse difficoltà. In media ogni italiano spende 850 euro all'anno per inseguire la fortuna, sempre più impossibile da raggiungere e sempre più allettante come l'attuale Montepremi del Superenalotto che ha raggiunto la soglia dei 180 milioni di euro. Non c'è un target ben preciso, uomini e donne indistintamente? Allora, il target una volta c'era, nel senso che i nostri sacri testi di medicina descrivevano le persone affette da una patologia di questo genere. In realtà adesso la tipologia del giocatore è diversa, nel senso che troviamo dai pensionati ai laureati, agli studenti, alle casalinghe. L'unico dato che secondo me ancora rifletta un po' quello che veniva detto in precedenza in sacri testi, gli uomini sono più colpiti, cioè giocano più frequentemente delle donne.